Mmm. Scese il silenzio. Remy fissava Daniel nervosamente. Arrivò il vino. Remy lo assaggiò, lo approvò e il cameriere versò un bicchiere a entrambi. Per nascondere la sua preoccupazione, Remy aspirò il suo ricco e sottile bouquet, facendolo roteare delicatamente nel bicchiere. Daniel si lasciò andare a una leggera risata e sollevò il bicchiere. Al cryptex! Al cryptex! I loro bicchieri tintinnarono. Daniel beve un sorso. Remy fece altrettanto. Buono! Esclamò Daniel schioccando le labbra. Sai, non ti avevo mai visto bere. Perché mi hai visto solo in occasione di un caso. Mi piace rilassarmi con una birra e una partita di calcio la domenica, però mi pongo dei limiti. Non mi sono mai piaciuti gli ubriaconi. Nemmeno a me. Quindi, non sei arrabbiato? Arrabbiato per cosa? Il mio, ehm, acquisto di quella statuetta. Se padre Ambrogio non ha problemi, non ne ho neanche io. Beh, dieri proprio di no. In ogni caso è fuori dalla mia giurisdizione. Basta che non diventi un'abitudine, ok? Sarai anche solo una consulente civile, ma devi comportarti come un agente quando lavori, va bene? Remy sorrise. Farò di più. Asterisk, asterisk, asterisk. La mattina dopo, Remy sedeva nell'ufficio di Keiko Okiai, vice direttrice della divisione Antichità, la donna che l'aveva incoraggiata verso questa strana seconda professione. Remy e Daniel avevano già avuto un incontro di debriefing con lei il giorno precedente, ma Remy l'aveva richiamata chiedendo un colloquio privato. Così ora si trovava qui, nervosa, come una scolaretta di fronte al preside. Volevo parlarle del mio posto nell'FBI, disse Remy, con il cuore che le batteva forte, come quando aveva affrontato l'assassino. Come le ho detto ieri, siamo più che soddisfatti dei suoi risultati. Grazie. Io vorrei accettare il lavoro, ammesso che l'offerta sia ancora valida. La vice direttrice Okiai si illuminò. Questa è una grande notizia. Prima, però, ho alcune domande. Spero proprio di ottenere le risposte giuste, o tutto questo potrebbe rivelarsi un enorme errore. Naturalmente, disse la vice direttrice con un cenno di comprensione. Ha detto che avrei avuto Daniel, cioè l'agente Walker, come partner. Cosa farà mentre io frequenterò il corso? Stiamo discutendo accordi speciali per te. L'accademia dell'FBI consta di due mesi di intenso addestramento. Abbiamo un nuovo caso che richiede la tua abilità, quindi dovremo farti fare l'addestramento tra un caso e l'altro. È altamente irregolare, ma d'altra parte lo è anche la divisione antichità, e lo siete anche lei e l'agente Walker.